Ciao, oggi vi faremo vedere un altro modo per colorare un disegno, semplicemente con un dito. Ah che due! Questo è Arte Green, io sono Yolana e io sono Nisha. Come vedete noi cerchiamo sempre di trovare altri tipi di idee per colorare o disegnare. Bambini, ma non solo, tutti si possono divertire con l'arte. Infatti noi lo facciamo in due. Per questo laboratorio vi servirà un disegno che potete scaricare dal link che vi metto sotto. I colori acrilici o tempere o meglio sarebbe se fossero colori apposta per la pelle perché andremo a disegnare con le dita. Però se non le avete, lavatevi appena avete finito. Prendiamo un po' di colore e facciamo dei puntini, dei pua con le dita. Possiamo farle anche in coppia, questo laboratorio. Potete anche mischiare più colore, ad esempio abbiamo messo il rosso e ora prendiamo un po' di arancio per fare delle sfumature. Vedete l'effetto è molto carino, voi potete provare con tanti altri colori e magari mandateci la prova che fate voi. Spero che vi sia piaciuta questa idea, che la proverete anche voi e magari se ci mandate le foto noi saremo molto contente. Noi intanto stiamo sempre cercando le nuove idee per farvi divertire sempre di più. Allora quindi vi aspettiamo sempre qui, iscrivetevi al nostro canale, anche nei nostri social, su Instagram. Speriamo di vederci sempre qui. Al prossimo video, ciao!